Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 12 ottobre 2019, sabato, e vi dico la verità, oggi i giornali sono pieni di cose divertenti, piccole cosette divertenti, e quindi vi invito ad ascoltare con attenzione questa rassegna perché oggi mi sono veramente divertito. La cosa fondamentale ovviamente riguarda la manovra finanziaria. Ecco, sulla manovra finanziaria, buongiorno Giada, Daman Carlo, Riccardo, sono arrivati su Instagram e così come molti stanno arrivando oggi sulla zuppa. Allora, la cosa incredibile di questa finanziaria che non è quella finanziaria che ti aspetti dalla terza generazione di politici seri, quelli che piacciono Europa, Mattarella. Questa è la peggiore finanziaria democristiana nel senso meno nobile del termine degli ultimi 2000 anni. Io vi dico soltanto una cosa che hanno previsto ieri di fare un'era finanziaria, vi giuro, vi giuro, hanno deciso, avrebbero deciso, poi ci sono un po' posti, hanno discusso di mettere una tassa di 13 euro sulle sim card dei telefonini. Standing ovation! Questi geni che cazzo si inventano? 13 euro di tassa sul sim dei telefonini. Quel business. Ovviamente poi ci sarebbero modi di bloccare, uscire, inventarsi. Poi dicono che l'evasione fiscale vogliono metterci in galera se evadiamo il fisco, ma se ti mettono 13 euro su uno strumento di lavoro come il telefonino e ti spiegano che il paese deve crescere, deve andare avanti e noi mettiamo 13 euro, che un abbonamento ormai sui telefonini business potrebbe essere 6 euro, 7 euro, cioè lo Stato si prende due mesi di quello che si prende l'abbonamento di un gestore. Questi sono delle persone che d'altronde non hanno la più pallida idea di che cosa voglia di lavorare. Una cosa simile la attribuisco anche a Francesco Maracorda, grandissimo giornalista economico di Repubblica, prima stava la stampa, perché oggi mi spiega su Repubblica, dice con un fondo di quelli che piacciono sicuramente i grillini, nonostante loro gli facciano schifo i grillini, dice ma io non vedo nulla di male, non mi sembra che un aumento delle aliquote IVA sui beni di lusso, magari compensata la riduzione sull'IVA su altri beni, possa diminuire la crescita e aumentare le disuguaglianze. Allora Francesco, caro amico, ci conosciamo da anni, ti vorrei chiedere, magari occupati di finanza, ma quando ti occupi di macroeconomia mi spieghi una cosa benissimo, quali sono questi beni di lusso? Cosa intendi per beni di lusso? Quanto tassiamo i beni di lusso? Quali sono le aliquote che applicheresti ai beni di lusso? E in Italia che cosa produce? Beni di merda o beni di lusso secondo te? E i turisti in Italia che cosa vengono a comprare? Beni di merda o beni di lusso? No, voglio sapere, perché poi i beni di lusso che cosa sono? Sono il tuo zainetto che metti, caro Francesco, quando metti lo zainetto quello di Prada è di lusso, quello dell'Invicta di no, quello di Moncler è di lusso e quello di no, oppure non so, i ristoranti li definiamo di lusso e i ristoranti, le osterie che oggi vengono premiate giornali sono di lusso, o gli alberghi, facciamo gli alberghi di lusso e gli alberghi non di lusso, d'altronde un tempo c'era sulle auto, le auto di lusso e le auto non di lusso. Questa è la mentalità, cioè di pensare che un paese attraverso le manette agli evasori, la tassa sulle sim, l'aumento dell'IVA sui beni di lusso possa risolvere i suoi problemi. Questa è la roba che, ragazzi, non ne usciamo, non ne usciamo, è impossibile uscirne. In realtà, poi dopo qualche cosa a questo governo si deve inventare sulle due cose che aveva fatto prima, e cioè quota 100 e reddio cittadinanza. Su quota 100 ve la dico subito, loro vogliono, e questo lo leggo sul messaggero che è il più chiaro di tutti, sempre preparatissimo il messaggero, devo fare un grande applauso perché il messaggero mi sembra il giornale che su robe economiche, senza tanti giudizi, senza tante manaccordate, ma insomma riesca a dire quello che sta avvenendo, dice che probabilmente vogliono aprire, rendere un po' più complicata quota 100, sostanzialmente oggi quota 100 te la danno a 62 anni più 38 di contributi, quindi a quota 100, ma te la danno dopo 3 mesi che la richiedi, quindi lo Stato guadagna 3 mesi. Se sei un dipendente pubblico te la danno dopo 6 mesi, vorrebbero aumentare ancora di 3 mesi in altro gioco delle 3 carte, quindi non te la danno dopo 3 mesi, te la danno dopo 6 mesi, o se sei un dipendente pubblico dopo 9 mesi, cioè ragazzi qua il gioco delle 3 carte, è presente giro, 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 gli farebbe risparmiare 600 milioni con la tassa sulle sim card, che poi non faranno, ma che hanno testato, hanno detto come reagiremmo alla tassa sulle sim card, come reagiamo se mandiamo in pensione un po' più tardi ma gli diamo quota 100, una roba fantastica, quindi tu hai quota 100 ma aspetti 9 mesi per averla, ti danno quota 100 ma in cambio di quota 100 danno una quattordicesima non dovuta ai pensionati, una in più. Va bene, perfetto, i pensionati saranno contenti, quota 100 sarà meno contenta, ma di che stiamo parlando? Cioè diciamo che quota 100 fa schifo perché aumenta la spesa previdenziale e noi che facciamo? Riduciamo la possibilità di avere quota 100 e aumentiamo la spesa previdenziale con una quattordicesima per i pensionati, ma va benissimo, basta che non ci prendete per i fondelli, basta che non ci dite che questo è il governo del rigore, che odia quota 100 e le pensioni. Sulla questione dell'Imu c'è un'altra cosa fantastica che io non avevo capito e oggi il sole, lo ringrazio, buongiorno Françoise Catiuscia, ringrazio il sole 24 ore che me l'ha fatto capire. Voi dovete sapere che in Italia, il genio dell'Italia, un paese dalle mille complicazioni, c'è sulla casa l'Imu 076 minima e la Tasi sui servizi cosiddetti invisibili, un modo per fare tassa, dello 0,1%, sommata 0,76 e il 0,1 fa 0,86. Questo governo vorrebbe portare a abolire la Tasi e aumentare l'Imu allo 0,86, quindi la cosa sarebbe indifferente con un piccolo particolare. Sapete qual è il particolare? Che molti comuni, scopro sul sole 24 ore, non applicano la Tasi, non il mio, non il comune di Milano, ma altri non lo applicano. Quindi che cosa vuol dire? Che se tu metti una tassa unica 0,86 e molti comuni oggi hanno l'Imu 0,76 ma non hanno la Tasi, hai aumentato la tassa sulle case. Chiaro? Dei geni, fantastici, però lo dicono tutto in silenzio. E sul reddito di cittadinanza, l'altra genialata del reddito di cittadinanza, invece vorranno rendere un po' più semplice agli stranieri prenderlo, secondo quello che c'è scritto sui giornali, alcune volte obiettivamente chiedono agli stranieri documenti che sono veramente non producibili, cioè allora valeva la pena dire che gli stranieri non la prendono, sarebbe stato meno ipocrita e un po' più difficile per i terroristi dopo gli ultimi casi ottenerla. Questo soltanto per l'economia, ma devo andare molto veloce, l'intervista a Fico su Corriere della Sera dice una cosa straordinaria, bello l'accordo in Umbria col PD, ma io con De Luca in campagna non lo faccio, con un piccolo particolare. Il PD in Umbria, a differenza di De Luca, è praticamente tutto segato, perché ci sono delle inchieste che gli hanno fatto un mazzo così, quindi che cosa sta succedendo? Che Fico non fa l'accordo con De Luca, ma l'accordo con il PD che facevano i concorsi e tutte quelle robe lì schifose, invece va bene. Ma io dico toc toc, oggi alla festa del Movimento 5 Stelle dove non partecipano la Lezzi e tanti altri, bisognerebbe dire, o di Battista, bisognerebbe dire come vi siete ridotti, zingaretti, nel frattempo, tutti i giornali lo citano, è impazzito per questa alleanza Movimento 5 Stelle delle PD, dice abbiamo il 40%, con il resto della sinistra 48%, non vedo perché non stare insieme. Nel frattempo c'è un sondaggio sul governo di Pagnoncelli su Corriere della Sera, come tutte le domeniche, che dice che il gradimento a Conte è salito dal 27 settembre a oggi, dal 41% al 49%, è ancora alto lo sgradimento, se possiamo dire così, ma scende il gradimento. E infine il fatto ci spiega, secondo i suoi sondaggi favolosi, che se i ragioni passerebbero all'alleanza PD-Movimento 5 Stelle, solo il Veneto se la terrebbe, nelle prossime elezioni in cui si andrà a votare, se la terrebbe il centrodestra, poi vai a scoprire che non è esattamente così. Ciao Luciana, ciao Rita. Sui curdi e sui torti che subiscono si intrattiene Mieli, la sporca guerra che l'Europa sta a guardare, dice Repubblica come se volesse che noi partecipassimo a questa guerra, mi sembra più ragionevole il pezzo di Belpietro oggi sulla verità che dice una cosa semplicissima, l'Europa è inane, è inesistente sulla questione turco-curda, se non dare soldi ai turchi, ma soprattutto l'Europa, ragazzi non ci stiamo rendendo conto, tre commissari nominati dalle governi europei per far parte della mitica commissione di questo genio di Ursula, che è l'uoma e la donna, l'uoma e la donna, che l'ultima volta che ha avuto un capello spettinato e perché rimase incinta, l'ultima volta, beh, Ursula, la donna dai capelli perfetti, che cosa ha riuscito a fare? Si è fatta bocciare tre commissari, uno tra l'altro francese, per cui una figura di merda colossale in cui una commissione probabilmente non riuscirà a essere votata nei prossimi giorni perché i suoi componenti non sono stati votati dal Parlamento europeo, la trovo fantastico, ma questi sono seri europeisti e non cazzari. A proposito di cazzari, parliamo della grande questione del Russiagate, quindi qui l'espresso di oggi e il fatto di oggi gli fanno ancora un mazzo così a Salvini, Savoini, eccetera. Ricordo bene, per una cagata pazzesca intercettati al Metropol, un uomo che si sostiene essere molto vicino a Salvini, e Salvini stesso non lo nega, fa finta di fare un affare, diciamo, miliardario che non va in porto. È una bella discussione quella? No! Messa in giro dai servizi segreti, certamente, su un affare che non si sarebbe mai potuto fare, ma comunque è una specie di balon de sé, di grande ipotesi di tangente che non c'è mai stata e non c'era nelle cose, che ovviamente fa fare una figuraccia di palta a Salvini. Dall'altra parte abbiamo il Premier Conte che fa venire in Italia il Ministro della Giustizia americano e lo fa incontrare con il capo dei servizi segreti all'ambasciata americana, e il giorno dopo ottiene il via libera da parte di Trump, benvenuto Conti e Giuseppi. Bene, insomma, da una parte abbiamo una cosa che non è successa e dall'altra abbiamo Conte che su Russiagate fa dei casini pazzeschi sui servizi segreti e non vuole mollare la delega ai servizi segreti. E cosa fanno l'Espresso e il fatto? Hanno la seguente linea identica perché sono la stessa pasta, ovviamente. Travaglio, tutto ciò di cui è sospettato Salvini è illecito. Tutto ciò di cui è sospettato Conte è illecito. Quindi è questa la logica, capito? È tutto illecito quello che fa Conte, è tutto illecito quello che fa Salvini. Non ne usciamo, non ne usciamo. Caro Gad Lerner, e noi saremo i fascisti. Caro Gad Lerner, e noi saremo i razzisti. A Lerner, nomine Ferrovie dello Stato è una storia stupenda, stupenda, oggi su Repubblica. Cosa succede? Fanno fuori il Renziano dalle Ferrovie dello Stato, questo mazzoncini, una mezza pippa secondo me, ma comunque lo fanno fuori. Fanno fuori da quando non c'è più quello là che viene condannato per le strage, come si chiama il sindacalista del CGL, vabbè, Moretti, da quando non c'è Moretti le Ferrovie dello Stato, hanno iniziato a fare tutto e male quello che dovrebbero fare. Detto questo, Renzi nomina questo toscano che aveva gestito le autovie toscane che si chiama Mazzoncini, che comunque continua a fare il suo mestiere. Ovviamente arriva Toninelli e fanno fuori l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e ci mettono uno interno che si chiama, come si chiama? Battisti, che viene nominato da Toninelli. Oggi scopro sul giornale che c'è un'interrogazione del movimento di Renzi che accusa Battisti di aver cancellato un contratto di assicurazione che avrebbe fatto risparmiare molti milioni alle Ferrovie dello Stato, vedremo, ma soprattutto che questo Battisti si è beccato 1.600.000 euro di rimborsi perché è caduto nel bagno una domenica in cui lavorava e si è fatto rimborsare dalle assicurazioni 1.600.000. Il non detto, che non scrive il giornale, che non dice nessuno, è che questo con le assicurazioni c'è un buon rapporto, visto che si è fatto rimborsare 1.600.000, no? Ci siamo capiti? Poi dopo non voglio essere querelato qua, non voglio dire nulla, dico soltanto che il movimento di Renzi sta accusando di una cosa gravissima l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, anche se non lo dice esplicitamente. Peraltro però anche il movimento di Renzi perché fa questa cosa? Perché gli hanno fatto il loro amministratore delegato fuori un anno fa, due anni fa. Insomma, meno male che Renzi non si occupava delle nomine, non si occupa delle nomine, per carità, di tutte le cose del mondo, la cosa fondamentale è il cesso di Battisti, dove peraltro cade e si fa male, un milione e sei gli restituiscono. Adesso io vado al bagno, cerco di farmi male, ma temo che Mediaset, il giornale o soprattutto la zuppa di Porro, un milione e sei non me lo daranno mai. Detto questo, vi auguro di beccarvi un milione e sei quando vi fate male qua, vedete quest'unghia, vi ho fatto male quest'unghia qua, un milione e sei. Perfetto. Direi che per oggi è tutto e vi do appuntamento sul sito nicolaporro.it perché lì questa volta su Lerner io veramente non ci ho visto più perché a me va bene tutto, però caro Lerner, la lezioncina da te sul fatto che noi siamo razzisti, caro Lerner, proprio no! Ciao!